Benvenuti qui su MTI, io sono sempre M e questa volta nello spazio recensioni voglio parlarvi di un film uscito appena due giorni fa, Hubie Halloween, l'ultima fatica, se così si può dire, di Adam Sandler e è disponibile su Netflix. Come sempre vi ricordo di condividere questo video, mettere mi piace e commentare che cosa ne pensate. Adesso si parte! Ho provato a riflettere bene sul mio giudizio riguardo questa pellicola, alla fine ne è uscito sul mio instagram un mediocre 2 stelle su 3, con il commento di adatto a tutta la famiglia, grande cast di supporto ma leggerino e volutamente ammiccante al trash. Ora non penso di vedere più dei bei film di Adam Sandler dai primi del 2000, se mai li ha poi fatti, ma in questo Hubie Halloween Massimo Lopez, no scusate Adam Sandler, fortunatamente riesce a far sorridere e intrattenere. In fin dei conti i suoi film negli USA sono paragonabili ma in proporzione molto più ampia a quello che fino a qualche anno fa erano i cinepanettoni da noi, dei film che attiravano pubblico da ogni dove con le assurdità più disparate regalando situazioni becere e trascione in ogni fotogramma. Purtroppo però internet è arrivato alle masse e tutto è cambiato, ma non divaghiamo che questa è un'altra storia. Questo Hubie Halloween è assurdo in ogni sua parte, da lui che ogni volta che va in giro in bici o corre si vede arrivare oggetti da ogni dove, al suo termos in stile coltellino svizzero. Ma soffermiamoci sul suo termos multiuso perché è una delle tre cose più belle di questo film, una vera parodia dei coltellini svizzeri multifunzione, perché questo termos fa di tutto, da aspirapolvere, da asciugacapelli, da torcia, da megafon, da lanciarazzi e tanto altro, ma in tutto questo è sempre un termos porta zuppa. Perché non sia mai che non si abbia la propria zuppa con sé. Ma quali sono le altre due cose meritevoli di questo film? Intanto la voce di Shaquille O'Neill e la sua successiva scena del panino è qualcosa che ha fatto troppo sorridere il bambino di sette anni che ancora aleggia in me. Ma la top del top di questo film è la faccia del gatto nero in una brevissima serie di fotogrammi degna di un anime. Non so perché, ma quello sguardo del gatto nero in quel momento preciso è qualcosa che mi ha proprio fatto piangere da ridere. Non avrei dovuto perché in fin dei conti i gatti sono i nostri padoni, ma non ho resistito. Non so se avete notato che fino ad ora non ho minimamente parlato della trama di questo film mi sa che dovrete ancora attendere perché il vero punto di forza di questo film non è la trama ma il cast di personaggi di secondo piano. Tanto che inizi a fregartene del film ma inizi a domandarti chi salterà fuori alla prossima scena. No davvero, si parte con Ben Stiller per poi passare al simpaticissimo Kevin James, Ray Liotta, Steve Buscemi. No ma vi rendete conto che nello stesso film ci sono Ray Liotta e Steve Buscemi? Non si può non guardare questo film. Poi c'è Rob Schendel, Maya Rudolph, Tim Meadow, la cosa Michael Kichikis, Kenan Thomas e come avevo già accennato appunto Shaquille O'Neal. E questo solo per citare gli attori più attempati che conoscono maggiormente gli adulti, ma poi ci sono anche quelli per un pubblico più adolescenziale. Insomma, con tutti questi attori che fanno da richiamo qualcosa potrebbe non tornare. Infatti, i tempi comici e le battute sono veramente infantili e la trama, sebbene non banale, è messa nettamente in secondo piano da queste scenette con i vari attori famosi che fanno le loro comparsate. La storia è di una banalità assurda. La cittadina di Salem, nota per essere la patria delle streghe di questa festa di Halloween tutta made in USA, è patria di questo Yubi, il classico ragazzone poco cresciuto di ormai 50 anni passati. Mi domando ancora per quanto Adam Sandler riuscirà a fare queste parti. Comunque Yubi ha una fissa per Halloween e vuole proteggere la città dai pericoli che nasconde questa festa. Ovviamente in tutti gli anni passati nulla di grave è mai veramente accaduto a Salem, ma quest'anno qualcosa di diverso è nell'aria. Sarà che ormai Yubi ha superato i 50 senza mai essere stato biblicamente con una donna o il fatto che uno psicopatico noto alla cittadina è scappato dal manicomio? Ma la gente inizia a sparire. Ovviamente Yubi, bullizzato e preso in giro da tutti, è l'unico che se ne rende conto. Cosa sta succedendo realmente in questa città? Chi è il mostro? Vabbè, ci frega poco a dire il vero. L'ora e 40 è passata, qualche risata ce l'ha strappata, la famiglia con i bambini sotto i 10 anni si è divertita e ha passato il tempo assieme. Cosa volete di più? Un film senza né arte né parte, che si fa guardare e che può essere divertente se visto con gli amici la sera di Halloween, tenuto magari in sottofondo mentre si fanno due chiacchiere e poi si fanno dei commenti sulle compassate e le situazioni più assurde del film. Io vi ringrazio di essere arrivati fin qui, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, condividete e commentate. Io ritorno a guardare serie e film di Fantascienza per Fantascientificast. Alla prossima, ciao!